Cari amici e fan dell'aloe, la nostra bevanda culto Forever Aloe Vera Gel è ora disponibile anche in formato mini, ossia 330 ml Forever Aloe Vera Gel. Le caratteristiche essenziali sono ovviamente rimaste invariate, ma oltre a questo il nostro mini gel ha molto da offrire e in questo video quindi vorrei spiegarti di che cosa si tratta esattamente. Come ti ho detto prima, niente è cambiato nell'innovativa formula del prodotto, infatti 330 ml Forever Aloe Vera Gel, proprio come il suo fratello maggiore, contiene il 99,7% di puro gel di aloe vera, ha un alto contenuto di vitamina C, è senza zucchero e senza conservanti. A differenza della confezione da un litro, le pratiche dimensioni di questo mini tetrapack lo rendono il compagno ideale, per ogni viaggio trova posto in ogni borsa e grazie alla sua nuova e sicura chiusura è perfetto per le gite giornaliere, le escursioni del fine settimana o da mettere in bella mostra sul tavolo durante la tua pausa caffè. A seconda delle tue abitudini di consumo, il nostro piccolo rubacuori contiene da una a tre porzioni giornaliere, in questo modo avrei sempre freschissima aloe a portata di mano. L'imballaggio del 330 ml Forever Aloe Vera Gel è made in Germany e, ciliegina sulla torta, 12 mini gel corrispondono esattamente a 4 confezioni da un litro, non è fantastico? Personalmente sono molto entusiasta del nostro 330 ml Forever Aloe Vera Gel e d'ora in poi ne porterò sempre uno con me. Spero di essere riuscita a contagiarti con un poco del mio entusiasmo e ti auguro molto successo e divertimento con i prodotti di Forever.